Tratti caratteriali distintivi. Questi gatti hanno un carattere eccezionalmente gentile e calmo. Sono curiosi e giocherelloni anche da adulti, amichevoli con altri cani e gatti. Exotic Shortire raramente miagola, non ama stare da solo, molto attaccato al proprietario, e ha costantemente bisogno della sua presenza. Il loro comportamento è più simile a quello dei cani che dei gatti. Tendono a mostrare più amore e devozione rispetto alla maggior parte delle altre razze. La loro natura calma e stabile li rende gatti ideali per le persone che vivono in appartamenti. Tuttavia, gli Exotic Shortire conservano alcune delle scintille energetiche dei loro antenati, e sono spesso in grado di intrappolare i topi. Per molti anni, gli allevatori di gatti, hanno sognato di creare un gatto che si nasce a un aspetto unico. L'Himalayana è un buon esempio di una grande idea. Il gatto ha pelo lungo con i segni colorati del gatto siamese. Inmi è un esempio di un'idea che ha catturato l'immaginazione degli allevatori, e ha portato al riconoscimento dei nostri bellissimi persiani. Gli Exotic Shortire sono esternamente simili ai gatti persiani. Exotic Shortire è un gatto tozzo, forte, e, allo stesso tempo, compatto con una grande testa rotonda, grandi occhi rotondi espressivi, guance pronunciate, orecchie piccole rivolte in avanti, naso corto camuso con sto pronunciato, e, per così dire, virgolette aspetto infantile. L'Exotic Shortire è talvolta chiamato il gatto persiano dei pigri per il fatto che sono molto simili ai persiani, ma non necessitano di un'attentato e lettatura, perché, a differenza del persiano, il pelo dell'Exotic Shortire è corto, circa due centimetri lungo, molto spesso e soffice al tatto. Oggi il gatto esotico ha pelo corto, grazie al suo aspetto originale e al suo carattere calmo, è una razza molto popolare in tutto il mondo. Il colore dell'Exotic Shortire può essere molto vario. Dal bianco al blu-nero. Ci sono sia colori monocromatici che bicolori, spesso puoi trovare anche colori a tre colori. Red tabby, marmorizzato, tartarugato, e così via. Lo stesso istinto creativo era presente quando è emerso per la prima volta Exotic Shortire. Circa una trentina di anni fa, gli allevatori di gatti American Shortire in diverse direzioni arrivarono all'idea che avrebbero migliorato il colore della loro razza, e, forse, avrebbero dato loro nuove indicazioni per colori aggiuntivi dei loro gatti. Hanno iniziato a lavorare a maglia i loro gatti American Shortire con persiani d'argento nel tentativo di ottenere un bellissimo mantello argentato e occhi verdi. I gattini di queste razze erano piacevoli da guardare, ma non sembravano veri gatti americani a pelo corto. Tuttavia, sono stati allevati abbastanza incroci da queste razze per attirare l'attenzione di Jane Martinke. Ha notato che c'era un graduale cambiamento nel tipo di American Shortire, e nella consistenza del mantello. Jane, con la sua lungimiranza, ha visto sia il danno che la continuazione di questi incroci potrebbe arrecare alla razza American Shortire, sia le opportunità offerte da questo adorabile gatto. Nel 1966, propose al consiglio di amministrazione del club CFA di creare una nuova razza. Il nome Sterling è stato originariamente suggerito per questa nuova razza a causa del suo bel colore argenteo. Questi gatti avrebbero dovuto assomigliare ai persiani, ma con i capelli corti e morbidi. Il concetto originale era quello di consentire ai gatti di uscire dalla classe American Shortire. La discussione su questa nuova razza ha portato allo sviluppo dello standard Exotic Shortire. Lo standard era lo stesso dei persiani, tranne per il fatto che il gatto non aveva bisogno di cambiare il naso all'inizio. Sebbene lo standard fosse originariamente inteso solo per il colore argento, tutti i colori persiani furono adottati nella nuova razza esotica a pelo corto fin dall'inizio. Inoltre, nonostante il fatto che l'Houcross fosse originariamente concepito come un iblido dei gatti American Shortire persian, le regole furono inizialmente interpretate come sfocate e qualsiasi gatto a pelo corto registrato dal CFA poteva essere usato come incrocio. I primi allevatori usavano i gatti American Shortire burmese a causa del loro corpo distinto e della testa moderata, diversi allevatori hanno utilizzato l'incrocio con un gatto blu di Russia per produrre un doppio mantello di peluche. Per quanto ne sappiamo, i gatti di tipo orientale non sono stati utilizzati a causa di requisiti fisici completamente opposti. È molto importante ricordare che sebbene il gene a pelo corto fosse originariamente derivato dall'incrocio di molte razze diverse, i primi allevatori fecero molti di questi incroci. Pertanto, dopo l'introduzione del gene a pelo corto non sono stati necessari ulteriori incroci. Fin dall'inizio, lo standard per l'esotico è stato scritto con l'obiettivo di creare un persiano con un mantello più corto e sciatto. Con lo sviluppo dello standard persiano, si è sviluppato anche lo standard esotico. Man mano che la razza diventava più popolare, sempre più allevatori persiani erano disposti a consentire che le loro linee venissero utilizzate nei programmi di allevamento di gatti esotici e iniziarono persino ad allevare loro stessi gatti esotici. Lo standard originale del gatto esotico non richiedeva un nodo per il naso, perché le prime razze esotiche discendevano da gatti americani a pelo corto che non avevano un nodo, e la direzione del club teneva che sarebbe stato ingiusto avere un requisito per il nodo. Quando l'esotico si avvicinò allo standard persiano nel 1973, i requisiti per un naso rotto furono aggiunti allo standard. Nel 1975, gli incroci consentiti furono ristretti al persiano e all'americano a pelo corto, il che significava che il birmano e altre razze a pelo corto non furono ammessi per 21 anni. Lo standard degli animali esotici è rimasto sostanzialmente invariato fino al 1978, quando il Consiglio di razza ha ritenuto che si dovesse prestare maggiore attenzione all'esclusiva pelliccia di peluche degli animali esotici. Colori popolari. Sebbene Exotic Shortire fosse originariamente un gatto argentato, molte cose sono cambiate nel corso degli anni. Secondo le statistiche CFA, i colori più popolari ora sono il nero, il tortie, il rosso a strisce, il marrone a strisce, e, più recentemente, il bicolore. Molto probabilmente un'ulteriore analisi mostrerà una correlazione diretta con i colori, che sono popolari tra i persiani. Prezzo e come acquistare correttamente. Il prezzo di un gatto dipende, prima di tutto, dallo scopo per cui lo si acquista. I gattini per le razze da riproduzione, e le classi spettacolo costeranno di più. A seconda della rarità del colore, e del rispetto dello standard, il prezzo per tali gattini può arrivare fino a mille dollari USA. Il prezzo è influenzato, anche dal numero di documenti che accompagnano il gattino e dalle vaccinazioni che gli sono state fatte. Il problema nella scelta dei gattini da esposizione, è che acquisiscono un aspetto tipico solo a quattro mesi, e, prima di allora, la lunghezza della loro pelliccia può essere determinata solo in un formato di previsione. Sebbene gli allevatori esperti siano abbastanza fiduciosi nel determinare la lunghezza del mantello all'età di 8 settembre settimane. I gattini della classe degli animali domestici, che sono destinati alla sterilizzazione, ma possono partecipare a mostre nella loro categoria, costano da ussue 100 dollari. La cosa più importante è avere un gatto sano, o relativamente sano. I gattini allevati in asili nido dove sono responsabili della selezione dei tori, di regola, non portano malattie ereditarie. Ma data la serie di problemi genetici dell'exotic short tire, è rischioso acquisire un animale domestico dalle tue mani. Sebbene il prezzo per tali gattini sia minimo, se non completamente gratuito. I gattini vengono acquistati all'età di almeno 2,5 mesi, e preferibilmente tre mesi, quando il gatto li ha svezzati. A questa età, la loro immunità è abbastanza forte, e la ziche è sintonizzata su uno stile di vita indipendente. Quando si sceglie un gattino, non si dovrebbe essere toccati, ma prestare particolare attenzione al morso, alle condizioni degli occhi e del naso, alla mobilità e alla manifestazione di un vivo interesse per ciò che sta accadendo.